e grazie e grazie per aver dato l'opportunità di partecipare sempre piacere scambiare idee con il collegio che tanto mi ha dato e mi ha permesso di arrivare dove sono arrivato allora come le ha detto giustamente ben capito perché importante nel contesto di quello che discuteremo è un fondo di investimento gestiamo capitale per conto terzi ed è la quintessenza della finanza cioè siamo degli allocatori di capitale da persone o entità che sono ricche di denaro ma non hanno possibilità di accedere a investimenti e quindi il nostro scopo è quello di allocare nel modo più efficiente le risorse abbiamo una presenza internazionale ma con una presenza molto dedicata sia sul territorio europeo in generale che nessun territorio italiano e dal punto il mio ruolo è quello di investire una piccola parte di questo denaro e questa piccola parte sono investimenti che sono in quello che chiamiamo real assets che sono investimenti in strumenti collaterizzati da asset tangibili allora quando ho preso ho deciso di fare questa sfida e di parlare in questa che è la prima volta che parlo una conferenza di questo tipo le domande che lei mi fece furono finanze a merito sono due argomenti che si possono combinare oppure no questo primo tema il secondo esiste una finanza senza merito e infine sono solo economici i risultati della finanza però ho preso due appunti e sinceramente non ci avevo perché alla fine del turbinio di fare cose uno non fa uno step back e pensa alle dinamiche di quello che fa però è stata una sfida interessante da fare un passaggio indietro e pensare un po' a queste tematiche allora la prima cosa che secondo me è utile innanzitutto cercare di capire cosa significa merito che è un argomento molto astratto però che alla fine è più o meno comune e comprensibile a tutti e quindi il merito cos'è il fatto di ho cercato la definizione sul dizionario e il dizionario dice il fatto di meritare cioè di essere cioè degno di lode di premio in pratica il diritto che con le proprie opere le proprie qualità si è acquisito all'onore alla stima la lode oppure una ricompensa ha anche uno significato scientifico che quello di che è praticamente sinonimo di qualità è interessante se non va a vedere dietro l'etimologia del significato merito significava il frutto del capitale in particolare il capitale che il monte dei pegni e dei prestiti si tratteneva nelle somme di denaro dati impegno quindi merito misurabilmente può essere considerato molto dal punto di vista puramente economico e questo torna poi al punto che discuteremo che è quel punto della finanza e cosa è il significato della finanza come ho accennato brevemente è quello di si può essere visto sia come i mezzi di cui si dispone per raggiungere i propri fini ma anche e soprattutto che quello che il mio ruolo è quello l'atto o i fatti che un soggetto economico compie per realizzare i propri fini quindi alla fine cosa fa la finanza la finanza definisce i processi di raccolta ed impegno delle risorse economiche ed essendo tecnicamente una scienza è squisitamente misurabile e il modo con quella finanza misura e la capa la capacità di massimizzare l'utile che riesce a ottenere e ovviamente utile e merito dovrebbero parlarsi a un certo punto perché uno potrebbe dire chi chi massimizza chi massimizza l'utile dovrebbe essere più meritevole che più meritevole dovrebbe massimizzare l'utile quindi in apparenza uno direbbe che finanza e merito vanno mano nella mano infatti il merito va a coloro che con le proprie qualità hanno acquisito all'onore e quindi a una ricompensa e per cui ne deriva che la finanza premia le persone più meritevoli perché sono quelle che in tecnicamente dovrebbero essere in grado di massimizzare l'impiego di queste risorse quindi la domanda è può esistere una finanza senza merito beh in teoria sì e come in fisica ci può essere un equilibrio instabile però come un qualsiasi equilibrio stabile è presente temporaneamente ma poi dovrebbero le forze circostanti dovrebbero portare questo equilibrio a un equilibrio stabile cioè le finanze le forze della competità che sono necessarie per massimizzare l'utilizzo delle risorse dovrebbero portare a una situazione tale per cui senza merito non dovrebbe esserci finanza e viceversa e quindi alla fine mi piace citare Lincoln ha scritto una cosa interessante ha detto lo dico in inglese perché me la ricordo in inglese dice you can fool all people some of the time and some people all the time but you cannot fool all the people all the time e quindi la stessa cosa se te mutati smutani dovrebbe applicarsi la finanza cioè tu riesci a creare un equilibrio instabile ponendo delle leggi e delle delle forzature però attendere questo equilibrio dovrebbe ribilanciarsi in una situazione dove la massimizzazione dell'utile dovrebbe essere causalmente correlata a coloro che hanno più merito quindi a questo punto secondo me potrebbe utile fare una breve parentesi e distinguere due temi che sono che per spesso si confondono che sono meritocrazia e meritorietà sono temi che cioè sinceramente non sapevo significato la parola meritorietà sinché non l'ho cercato e meritocrazia e il potere al merito quindi e questo la parola fu coniata da Young con scritto questo testo satirico negli anni cinquanta che aveva lo scopo di denunciare il sistema educativo anglosassone seguito della seconda guerra mondiale dove studenti venivano classificati in tre gruppi ottimo medio e mediocre e i studenti ottimi sarebbero quelli che avrebbero quindi più meritevoli quelli che avrebbero dovuto prendere in mano la guida del paese quindi il potere politico e quindi nel questo libro di Young lui descrive questa società utopica dove si crea una dittatura della meritocrazia poi la meritocrazia inizia a imporre delle regole tale per cui anche le persone che tecnicamente potrebbero essere meritevoli non riescono mai ad emergere perché non riescono a lavorare o operare a seconda di queste leggi e lui dice che il merito è uguale alla somma di due componenti la prima componente e quindi m uguale iq plus e dove m è merito ovviamente iq è il quoziente di intelligenza quindi tecnicamente quello che madre natura codici genetico c'è dato e e effort che quindi sforzo per cui il merito è squisitamente individuale nel senso è la somma di talento quello che innattamente uno dovrebbe avere e sforzo quindi l'entropia che uno causa usando la propria energia per raggiungere uno scopo quindi le persone che sono più intelligenti ma non solo ma si applicano dovrebbero avere il massimo del merito e quindi eccellere in una società che è squisitamente meritocratica e quindi accedere al potere mentre la meritorietà è il principio basato sul criterio del merito per cui è giusto che chi merita di più ottenga di più ma non tanto da porlo in grado di definire le regole che guidino poi tutto il sistema di potere quindi io direi la finanza è assolutamente si basa assolutamente sulla meritorietà ma anche sulla meritocrazia perché la finanza non è etica in principio cioè l'etica è un'imposizione sociale la finanza semplicemente come detto è una quasi come una macchina cioè l'applicazione di risorse economiche per massimizzare gli utili se poi questo ha uno sfondo etico morale o no è completamente indifferente tecnicamente esempio investimento in diamanti è assolutamente un investimento economicamente positivo però tecnicamente uno dovrebbe andare a pensare ma dove arrivano questi diamanti cos'è lo scopo dell'uso di questi denari che vengono usati per comprare questi diamanti però la finanza applica la massimizzazione dell'utile quindi se lasciata se stessa è una forza che è completamente asettica e quindi non necessariamente etica però meritocratica e la foe è così forte che tende a sviluppare un sistema meritocratico dove diventa come si dice in inglese self-fulfilling aiuta a se stessa diciamo quindi se uno vuole imporre un un tornando al punto esiste finanza senza utile no perché è uno simbolo ma esiste finanza senza etica sì assolutamente tant'è che il concetto di finanza etica sono concetti che sono stati sono stati portati alla carica molto più recentemente il comportamento eticamente responsabile dell'imprenditore e quindi di produrre profitto rispettando le regole dei mercati per la e di supportare la crescita della collettività è un concetto un argomento che ha portato avanti Friedman nel suo libro capitalismo libertà e quindi è un argomento più recente e qui entriamo in un discorso che in questo periodo è un discorso molto presente e molto attuale che il discorso di quello che si chiama ESG che sta per environmental social and governance quindi praticamente è il tentativo imposto dall'esterno di forzare la finanza ad essere esteticamente utile e ESG sta per i criteri che vengono definiti e che vengono utilizzati per determinare i criteri di scelta per quelli che vengono definiti come investimenti sostenibili cioè investimenti sostenibili quindi environmental ambiente social social e governance quindi governance e il modo con cui vengono gestite le imprese questa finanza che è un argomento molto topico un argomento che ad esempio sta molto a cuore a una società come Ben Capito è uno delle pilastri fondamentali del nostro profilo di investimenti va a guardare argomenti ambientali quindi uso di energie inquinamento conservazione di risorse ad esempio una delle attività nostre è di sviluppare immobili a uso residenziale piuttosto che a uso ricettivo o uffici e in quel caso ci focalizziamo molto sulla costruzione di immobili che sono energy efficient quindi con tutti i vari criteri necessari per minimizzare lo scopo di uso di risorse sociali alla fine uno va il componente sociale è quello di guardare a che tipo se i fornitori cioè coloro che lavorano con te usano essi stessi lo stesso tipo di criterio che tu applichi in un quando compriamo una società ad esempio all'interno del consiglio di amministrazione qual è la diversità diversità di nazione diversità di etnia e dire soprattutto diversità di sesso quindi è un argomento assolutamente importante da quel punto di vista e poi governance sicuramente tutti voi leggete le news avete sentito di quello che è successo in situazioni come green seal questa società che finanziava in modo molto poco trasparente crescita economica in modo in modo abbastanza opaco e quindi il governance è tutto quello che sono i principi contabili utilizzati sono una società chiari sono trasparenti e il processo del processo decisionale è ben definito e soprattutto equo quindi quello che viene chiamato equity and inclusion e questi sono argomenti che tecnicamente la finanza non considera se lasciata a se stessa ma che se imposte dall'esterno creano un sistema tale per cui la finanza riesce a massimizzare gli utili all'interno di un di una costruzione ben definita e come come dico sempre ai miei colleghi e alla fine qualcuno definisce le regole del gioco e poi si gioca a secondo delle regole di gioco come monopoli se mi dici che prima devo costruire tre case prima di comprare un hotel prima costruisco tre case poi compro un hotel però possiamo anche dire che compri l'hotel senza le tre case e il monopoli funziona lo stesso però qua vorrei fare un appunto che secondo me è importante persone che con cui parlo con cui collaboro che hanno avuto molto successo nella vita tendono a pensare e a credere che tutto questo successo è derivato dal merito quindi che sono stati molto bravi sono molto intelligenti sono stati molto bravi a implementare usare le loro capacità genetiche poi sono cresciuti in un ambiente che gli ha permesso di sviluppare il senso del dovere e la volontà di ottenere quello che in inglese chiamano great cioè il desiderio di fare e raggiungere un riguardo e quindi sono 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 hanno ottenuto tutto ciò grazie al loro puro e semplice olio di gomito secondo me è assolutamente fasullo il merito in realtà è una componente forse che lancio la sfida una componente importante ma assolutamente un ingrediente per il successo infatti merito e quindi volontà e capacità non bastano assolutamente l'altro importante elemento è la fortuna è quello che quello che quando uno sente i film si dicono to be in in the right place at the right time essere al posto giusto al momento giusto e potrei fare un'infinità di esempi i fondatori di google quando fondarono google loro volerò vendere google a be a george bell per un milione di dollari george bell disse non mi interessa e quindi loro essendo avendo avuto reggetto da parte di loro di questi hanno cresciuto una società che vale più di 100 billion adesso quindi componente di fortuna no i beatles quando suonavano negli anni 50 erano una di 400 band a liverpool però sono stati fortunati che una sera suonavano in un in un club e il loro produttore discografico poi li ha seguiti per decenni era lì e li ha sentiti gli è piaciuto ed era lì casualmente perché aveva perso l'aereo per tornare a lontano il treno per tornare a lontano e gli esempi sono amazon cioè possiamo usare quasi tutte le persone che hanno avuto cioè tutte le persone che hanno avuto successo l'hanno avuto sia per merito ma anche molto per fortuna e potrei usare moltissimi colleghi miei che sono più bravi più intelligenti e hanno forse più volontà però hanno avuto meno successo e molti che forse potrei considerare meno meritevoli però hanno avuto più successo di me e questo non è solo una mia recuperazione un mio pensiero ma uno scrittore che si chiama Rob Frank ha scritto un libro interessante a riguardo di questo che è un best seller dal Financial Times che si chiama Success and Luck e che si rifà a una teoria che scrisse Philip Cook in un libro che si chiama The Winner Takes All Society cioè quella è una sfida che dice coloro che vincono in una società scritta molto americana takes all cioè vince tutto come al casino e perché dico ciò perché come detto la fortuna è molto importante per avere successo nella vita e anche i mercati vivono molto di fortuna e di caos ad esempio bitcoins qualcuno che conosco ha avuto la fortuna di comprarli a 100 dollari poi sono saliti a 50.000 dollari del bitcoin qualcuno che conosco ugualmente intelligente ha avuto la sfortuna di comprarli a 50.000 dollari e adesso ne valgono molti di meno e quindi il right place at the right time i primi dipendenti di Amazon cioè la segretaria di Jeff Bezos che ha iniziato a lavorare per lui e ha ricevuto azioni di Amazon cioè non è che avesse questo enorme merito eccetera però era lì al right place at the right time e ha ricevuto azioni di Amazon e andasse multimilionari quindi è importante lavorare sodo è importante avere fortuna è importante cercare anche di posizionarsi tale per cui si massimizza la probabilità di avere la più alta fortuna e quindi perché le persone che hanno successo pensano che il loro successo derivi principalmente dal loro merito ma perché è la cosa più semplice c'è anche dal punto di vista psicologico uno pensa al proprio passato è molto più semplice dire io guardo il mio passato I made it l'ho fatto perché sono bravo io questo però crea anche una cosa molto difficile che crea che nel momento in cui le persone hanno avuto successo ad esempio se tu chiedi a un ricco di pagare tasse non lo vuoi fare perché dice no io l'ho guadagnato da solo grazie al mio merito perché dovrei distribuire parte del mio benessere per al vantaggio di altri quando non mi hanno aiutato nel mio percorso oppure il fatto che molte persone molto ricche fanno molta filantropia spesso non è dovuto al fatto che siano generosi ma più che altro perché è un'ottimizzazione fiscale perché nel momento in cui io dono dei soldi quello che ho donato lo posso usare come effetto effetto di set off per il mio pagamento delle tasse quindi parte della narrativa deriva dalla storia che ognuno di noi alla fine si crea nella propria testa e la storia è alla fine il frutto degli ingredienti che il nostro cervello ci porta a ricordare più frequentemente e Napoleone ha detto interessante ha detto abilità senza opportunità e di scarso uso e lui è una persona che alla fine molte fortune le ha avute anche sfortune però right place at the right time ad esempio una persona nata nel 1600 rispetto a una persona nata nel 1950 probabilmente la sua probabilità di crescita economica è molto inferiore però alla fine calerei il tutto nella mia esperienza personale per dimostrare che anche se il collegio chiesi il dottor Maranesi mi ha definito come uomo di successo definisco come un successo di essere abbastanza minimo però userei il mio passato come esempio allora io sono nato e cresciuto in un piccolo paese della provincia di Cuneo e decisi di andare a studiare a Pavia semplicemente perché sembrava un bel posto per andare non è che avessi questa grande idea e avessi pensato o in qualche modo il mio talento mi avesse portato a definire Pavia come posto no, era un posto semplice mi piaceva, una piccola cittadina Ghisieri non sapeva neanche cosa fosse iniziai a studiare odontoiatria e il professore mi disse un giorno guarda lei abita in una monolocale da 12 metri quadrati i Ghisieri magari le offrono qualcosa di meglio poi andai e feci l'esame da missione a Ghisieri e entrai a Ghisieri e poi casualmente scoprì che Ghisieri offriva questa scholarship a Cambridge per il periodo estivo e quindi andai a Cambridge e casualmente il professore con cui lavoravo in quel periodo a Cambridge era poi diventato il rettore del Trinity College di Cambridge cioè è stato veramente casuale io potevo andare a Cambridge e stare là e fare una tesi o un lavoro con una persona che non avesse nulla a che fare con il Trinity College e casualmente il Trinity College aveva necessità di avere un ribilanciamento del numero di persone tra non residenti in Inghilterra rispetto a residenti in Europa e in particolare l'Italia c'erano solo due altri membri del Trinity College che erano italiani e quindi abbia l'opportunità di studiare al Trinity College a Cambridge poi studiare ingegneria chimica e io della finanza non sapevo nulla zero ero un ingegnere di medie capacità grande impegno e qualche talento ma non sapevo nulla la finanza andrei a lavorare alla British Petroleum e quando ero quando lavoravo alla BP la BP la BP fece una fusione che fu la fusione più lucrativa che la BP fece tra parentesi tornando ESG era tutto tranne che ESG compliant perché fece una joint venture con T&K che è la società di distribuzione petrolifera russa e Goldman Sachs fu advisor di questa di questa transazione e come premio venne mandato un managing director di Goldman Sachs a visitare gli stabilimenti BP e a vedere che cosa succede a BP casualmente venne un giorno dove la persona che doveva portarla non era non era lavoro io essendo il più junior e quindi il più sostituibile mi dissero fai tu portalo tu in giro e io lo portai in giro e gli chiesi cosa facevano eccetera mi spiegò un po' cos'era la finanza mi spiegò di questa grande Goldman Sachs e e quindi mi disse guarda la persona che passi da Londra fai i colloqui se sei bravo ti assumeremo io feci i colloqui e mi assumerò questi sono esempi secondo me di quello che alla fine da un certo punto di vista la fortuna cioè io non avevo un percorso che definiva adesso vado faccio questo e quindi applico la mia intelligenza la mia forza di volontà per arrivare a questo obiettivo una serie di di eventi casuali mi hanno permesso di avere questa opportunità poi io ci ho messo il mio impegno però sono stati molti eventi casuali che senza i quali non avrei potuto raggiungere alcuni di questi traguardi che abbiamo discorso prima e quindi ho parlato molto quindi chiudo qua è una cosa che vi lascerei è una quote è una citazione di uno dei miei film preferiti che è il Doctor Strange Love di Kubrick e c'è questo discorso surreale tra il General Buck Turgenson mentre parla il Presidente Merkin Muffley e c'era stato un problema dove avevano lanciato questa bomba e il Presidente ovviamente era molto arrabbiato e General Buck Turgenson gli ha detto well I don't think it's quite fair to condemn a whole system because of a single sleep e con qui e con questo dottore penso di aver detto la mia grazie grazie mille dottor Longo è estremamente chiaro davvero il suo oggi è il secondo intervento della giornata prima di lei ha parlato Oscar Farinetti un imprenditore in Italia abbastanza abbastanza conosciuto e mi ha molto colpito perché in modo meno esplicito di lei più o meno ci ha fatto capire la stessa cosa conta il merito ma conta anche la fortuna o per dirla in termini un pochino meno eleganti contano molto anche le botte di culo per così dire per così dire io mi chiedo io mi chiedo se e poi lascio la parola naturalmente al pubblico che potrà porre tutte le domande che vorrà alzando la mano sarò poi io ad aprire il microfono dicevo nel mondo della finanza nel mondo della finanza quali siano ad oggi immagino soprattutto un giovane che voglia avvicinarsi al mondo della finanza quali siano gli obiettivi e i valori che questa persona si deve dare il merito conta ma il merito non è sufficiente conta la fortuna a parte la fortuna quali possono essere gli altri ingredienti che un giovane che si avvicini in finanza deve coltivare per poter avere un percorso di valore allora quello che posso dire è prima le cose che non servono le cose che non servono e primo conoscenza tecnica io non avevo nessuna conoscenza tecnica si serve una conoscenza base della matematica ma i calcoli più difficili che si fanno in finanza nel 90% delle volte sono somme queste attrazioni poi diventiamo super contenti quando facciamo una radice quadrata cioè conoscenze tecniche non servono conoscenze economiche non necessariamente servono perché come ho detto la finanza applica massimizzazione delle risorse quindi quello è meno rilevante quello che serve secondo me è primo il capire il valore finale che la finanza dà perché la gente pensa che si va in finanza solamente per guadagnare assolutamente il guadagno è molto importante ma la guadagno è la derivata seconda la derivata prima se uno vuol fare un lavoro di questo tipo è quello di capire il benessere sociale economico che la finanza genera perché lo scopo nostro è di investire soldi di fondazioni come la vostra come il collegio di sideri come enti pensionistici eccetera investire questi soldi massimizzare gli utili e questa allocazione di risorse a chi ne ha molte a chi ne ha poche permette entrambi di realizzare i loro obiettivi quindi a uno di massimizzare i ritorni per poi distribuire queste somme a chi gliel'ha dati pensionati piuttosto che scuole e altro e agli altri quello di raggiungere degli obiettivi che non sono imprese imprenditori eccetera quindi capire che quello è il motivo secondo cercare di applicarsi parlo bene la finanza non è una non è una una scienza e quindi non è una non è un percorso accademico quindi richiede molte ore di lavoro e di dedizione semplicemente per la tipologia quindi dedizione a quello che uno fa lasciando sempre la fortuna a parte che è importantissimo e poi la terza cosa è capacità che quello che in inglese si chiama accountability cioè tu sai che quello che fai sarai accountable cioè la gente verrà data e dirgli perché l'hai fatto e questo è molto importante tu non sei un consulente non sei un consulente non dai suggerimenti eccetera le fai e quindi avere questo spirito di essere accountable quindi drive che vuol dire desiderio di raggiungere capire il significato della finanza e terzo essere accountable ovviamente se lo fai bene guadagnerai soldi ma in molte cose puoi farlo bene io posso uno può aprire uno stand dove vende hot dogs e farlo bene farà tanti soldi lì quindi prima decidi perché e con chi lo vuoi fare e poi i soldi saranno le derivate seconde grazie lascio la parola al pubblico se vi sono delle domande basta alzare la mano premere il pulsante sulla barra di zoom e sarò io ad aprire il microfono nel caso oh ecco sì c'è già una domanda da o per Carlo Minoretti che gioca in casa diciamo così ecco qua allora innanzitutto saluto l'amico relatore perché nel lontano 1999 ero a un matricolo assieme precisamente venti ventidue anni fa quindi è un piacere rivedersi e il saluto è è veramente anche perché poi nei casi della vita ci si perde di vista lui ci ha appena detto che ha fatto tutta la carriera all'estero da Cambridge mi risulta anche un viaggio in Europa dell'Est nel mondo dell'Est se ricordo bene e poi dopo ci sono queste felicemente queste occasioni di sentirci allora io ho apprezzato molto l'incontro e volevo fare questa riflessione magari sentire il parere del dottor Longo stanno cambiando stanno cambiando alcuni criteri ecco in in tanti contesti economici poco tempo fa dicevo un articolo che mi ha interessato io faccio il vendico quindi sono distante dal mondo dell'economia in cui si contestavano molto i social network le nuove risorse nei mercati locali e anche lì dopo degli anni che degli anni in cui ci dicono tutta una serie di servizi verranno transitati solo dai social network se leggere un articolo di questo tipo mi ha fatto riflettere come ci poniamo di fronte alle novità dottor Longo che ogni giorno non dico ci ci stimolano almeno a riflettere quale è la strada da percorrere perché a volte ci si trova che nel mezzo della strada ci viene detto l'esatto contrario di quello che c'era stato detto prima mi piacerebbe sentire una sua riflessione da economista ormai esperto di finanza innanzitutto saluto il dottor Minoretti che mi ricordo le notti passate assieme al collegio Ghislieri e con i bei ricordi è piacere averla vista in questo in questo contesto domanda interessante innanzitutto sono molto profano perché se mia moglie fosse al telefono direbbe che io non uso i social media praticamente zero uso faccio difficoltà a usare Whatsapp mia figlia che ha otto anni la vigna ha un uso dei social media superiore al mio come dicono i miei junior mi dicono sempre che sono troppo giovane per essere scusabile di non essere così ignorante dei social media detto ciò secondo me permane il punto che in questi giorni in questo periodo siamo bombardati da una serie di informazioni che ci arrivano in maniera in maniera abbastanza scomposta soprattutto i social media poi quello che sono molto bravi è a fare analisi tecnica di quello che sono le nostre preferenze in base a clicks in base alle nostre selezioni quello che compriamo quello che guardiamo quello che scarichiamo su google e poi a fornirci un'immagine e dal punto di vista di news eccetera che per ora è quello che stiamo cercando quindi rinforza lo stesso messaggio e trovo questo veramente sconcertante perché soprattutto per le generazioni più giovani crea un sacco di quello che chiamiamo misinformation quindi secondo me il punto principale che esuta ovviamente dalla finanza e in finanza questo diventa meno rilevante perché alla fine la finanza si basa nei numeri e i numeri quelli non li puoi cambiare a seconda di quello che appunto i social media dicono per quanto riguarda gli obiettivi personali che penso un po' dove lei stava andando e questo è molto difficile è qua che si torna al punto di merito uguale IQ plus effort e effort e quindi sforzo diventa molto dal deriva molto dall'ambiente in cui uno cresce e dai valori che i tuoi genitori e il sistema sociale in cui tu ti trovi ti ha dato e questi secondo me questi valori se sono forte sufficienza ti permettono di navigare in questo turbinio informativo mantenendo la rotta di un ordre ben chiaro penso che essere per me impermeabili a troppe spinte sia una diciamo un merito che tanti dovrebbero dovrebbero avere dovrebbero puntare non farsi prendere dalle mode dei momenti che purtroppo investono in tutti gli ambiti infatti prima ho citato durante la discussione i bitcoins anche i miei genitori a un certo punto mi chiesero ma questi bitcoin hanno senso è perché era una moda che la gente definiva un po' come i tulipani durante il 1500 1600 in Olanda anche i tulipani sembravano essere un grande investimento e la gente faceva molto sulla casa per comprare un bulbo però poi scopriranno che la moda del momento non era giusta questo porta a pensare se alla fine l'etica e quindi la finanza etica è definita dall'etica dell'etica del momento ovviamente l'etica è definita dal contesto sociale del momento e quindi la domanda che uno potrebbe essere interessante farsi è la finanza etica oggi sarà etica domani era etico nel 1600 bruciare le streghe al rogo adesso non lo è più però quello che oggi consideriamo essere etico lo sarà fra cent'anni e quindi la finanza che stiamo sviluppando al momento questa finanza ISG che sembra essere molto etica molto giusta se vogliamo chissà se lo sarà ancora rischio che magari questa riflessione non la faremo fra cent'anni ma la faremo fra due anni o fra un anno grazie grazie anche a 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 che che è sempre un caro amico chiedo chiedo se vi siano altre altre domande altre persone dal pubblico che vogliono pure qualche qualche quesito se così non fosse ho una ho io un'ultima domanda per per il dottor Longo vale a dire lei prima ha toccato tangenzialmente questo tema l'intuito quanto conta abbiamo parlato di fortuna abbiamo parlato di merito l'intuito in finanza nel suo lavoro nella sua esperienza in generale l'intuito gli inglesi lo definiscono gut feel che è molto strano perché sembra che il cervello si sia trasferito nello stomaco forse deriva dal fatto che ci sono molti batteri e quindi il secondo cervello non lo so però gli inglesi lo chiamano gut feel e gut feel cos'è l'intuito non è altro che la serie di eventi e di esperienze passate che ti permettono di percepire un risultato prima ancora che dal punto di vista cognitivo sei arrivato a quel risultato io sono una persona poco intuitiva lo sto diventando di più col tempo avendo più esperienze magari esperienze maggiori quindi alcune volte quando i miei colleghi del mio team mi fanno vedere investimenti che all'apparenza sembrano essere interessanti però gut feel l'intuito ti porta a dire ma sì ma forse no e c'è qualcosa che ti chiedi in finanza lo trovo molto importante però l'intuito non può essere perseguito da solo l'intuito deve essere poi supportato da un'analisi empirica e numerica che ti permette di capire e di andare a fondo se questo intuito è giusto sbagliato ad esempio quando uno decide che tipo di società stocks comprare sul mercato non è che si può solo basare sull'intuito ad esempio intuisco che investire ad esempio in fintech o in società in crescita nel mondo medico sia intuitivamente abbia senso sì intuitivamente abbia senso però quali fra queste tu deciderai non ti puoi solo basare sull'intuito quindi la combinazione è una combinazione di impegno quindi devi impegnarti a capire quello che stai facendo secondo di quaziente intellettivo perché se alla fine se non hai un livello base di intelligenza puoi metti tutto quel guai ma non vai molto lontano terzo un ambiente in cui sei cresciuto e che ti abbia insegnato il senso del great quindi della volontà e dello sforzo e quarto ascoltare il tuo intuito che praticamente è un modo di percepire e analizzare che è più rapido e deriva dal tuo processo e dal tuo bagaglio tecnico e dal tuo bagaglio di esperienze messi tutti assieme poi potremo un giorno disquisire quali di questi più importanti rimango dell'idea che la fortuna rimanga la più importante però tutti sono necessari per creare per creare un ecosistema sostenibile soprattutto un ecosistema positivo grazie grazie davvero e bene ah vedo un'altra domanda quindi attivo subito il microfono di Ludovica Roli prego eh sì buonasera allora ringrazio per il suo intervento io volevo chiederle abbiamo detto come elementi determinanti del successo ehm IQ effort e poi appunto fortuna e magari un po' di altri elementi abbiamo citato anche l'ambiente in cui insomma ci si sviluppa si vive e io mi chiedevo insomma come mia esperienza personale dato che io studio finanza e adesso insomma vorrei iniziare a lavorare in investment banking a Londra sono andata incontro a tutto quello che è il processo di recruiting networking interviste e la mia impressione è stata un po' quella che in realtà ehm senza essere eh nei posti giusti ma proprio diciamo senza sapere fin dall'inizio quali sono i posti giusti quindi non lo so le università target nelle quali essere senza sapere quali sono le persone con cui parlare e avere i contatti giusti diventa non impossibile ma sicuramente molto più difficile avere accesso a questi lavori e quindi mi chiedevo se secondo lei in questo caso non si possa dire che l'ambiente influenza molto la la fortuna ehm sì sì la influenza ovviamente una persona che eh abita a Londra o New York avrà l'opportunità di avere un accesso a una serie di opportunità superiori ad una persona che abita a Fossano in provincia di Cuneo assolutamente sì concordo su quello però questo ritorna sempre al punto nulla alle vieta di cercare di considerare l'opportunità di a fare un passo avanti cioè trovare l'opportunità di usare i suoi canali ad esempio in questo caso a canale Ghislieri eh attraverso canale Ghislieri ad esempio contattare persone come noi di Bain o altre persone e quindi di usare questo canale per trovare opportunità che magari non sfociano in Bain Capital in questo caso una società simile ma cercare di creare il necessario network che possa portare a realizzare il suo sogno che è quello di lavorare in investment banking c'è da dire che anche il momento di trovare lavoro in investment banking visto l'impatto della pandemia non è neanche una delle cose più semplici quindi torniamo alla fortuna se magari lei nasceva prima della scopri della bolla dot com nel 2000 sicuramente adesso lavorerebbe già in finanze sì in realtà forse paradossalmente adesso con il boom che c'è stato di M&A c'è un sacco di recruiting in più di analisti rispetto a prima quindi forse direi quasi sia un periodo fortunato bene in bocca al lupo grazie c'è ancora una domanda e quindi se Fabio Longo dà ancora disponibilità di tempo attivo volentieri il microfono assolutamente prego sì ciao Fabio sono Andrea Schubert ma non ti è permesso di fare domanda Andrea non me l'avevi detto prima di invitarmi Andrea Schubert è un mio collaboratore ecco perché no la mia domanda è molto semplice quanto alcune volte si confonde la fortuna con invece la propensione a prendere dei rischi perché il rischio in finanza e nella vita è una componente assolutamente importante e sicuramente il successo il merito alcune volte sono una componente di fortuna ma anche di saper prendere dei rischi e prendere quindi anche delle scelte rischiose di cui l'outcome non è facilmente prevedibile quindi chiaramente poi la fortuna viene confusa che ti è andato bene era un outcome difficilmente prevedibile e quindi sono stato fortunato che mi è andato bene però se non prendevi il rischio non te la giocavi insomma concordo però io definirei prendere il rischio come una derivata dei due componenti intelligenza e forza di volontà perché prendere rischi così per prendere i rischi è semplicemente essere reckless cioè non avere nessun tipo di limite quindi rischio ha senso prenderlo quando è un rischio pensato quindi il primo pensato implica che uno ha un certo livello di intelligenza per analizzare il decision trail e quindi le varie possibilità di eventi e quindi definire se il ritorno rispetto al rischio abbia senso prima cosa secondo richiede anche uno sforzo perché nel momento di prendere il rischio da sé non è sufficiente è sufficiente poi aver preso questo rischio e portare avanti no quindi direi che forse prendere il rischio è semplicemente una derivata di avere l'intelligenza di capire che fare questa decisione ha dei vantaggi superiori agli svantaggi e poi perseguire questo rischio e quindi perseguire la propria causa usando la propria forza di volontà e avere la fortuna di avere la possibilità di prendere questo rischio nel momento primo bene la serata ha preso quasi una via quasi filosofica mi chiedo se vi siano altre domande se così non fosse se così non fosse come mi pare io ringrazio molto a nome del collegio Ghislieri il dottor Fabio Longo per il tempo che ci ha dedicato e per questa serata estremamente interessante ed estremamente varia siamo passati da un racconto di quello che è stata una carriera una storia personale ha grandi temi che toccano hanno toccato l'etica la storia la psicologia sono davvero molto molto contento come credo lo siano anche le persone che si sono collegate a cui anche va il mio ringraziamento buona serata a tutti di nuovo grazie e a presto speriamo di avervi qui di persone in particolare Fabio Longo che manca da Pavia e dal collegio penso ormai da diversi anni grazie mille dottor Maranese per avermi invitato e grazie a tutti per aver dedicato un'ora dopo cena per ascoltarvi grazie ancora arrivederci buona serata a presto buonasera a presto